E' rimasto con noi ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fuori con noi, c'è Luca di Rastadogne! Vai mister! Grande mister! Grazie a tutti! Mi hanno facciato una vera! Adesso come faccio a chiedere a Gianluca di Rastadogne come ha fatto il padronno buono che ha convicciato, è uno spettacolo che si... No, no, ma sono io a ringraziare il padronno buono, il direttore sportivo Ferrigno, per aver avuto questa grande possibilità di vivere questa grande nozione. Non posso ringraziare i miei ragazzi che sono veramente splendidi, quelli dell'anno scorso che non ci sono più, che hanno dato... Buongiorno mi sono arrivati, che Bianchiano sta capendo che cosa vuol dire giocare a Messina, allora dico sempre di ricordarsi che noi siamo in Messina. Non si vede? Eccolo che lo portiamo! Lo volevamo fare stare accanto allo staff, ragazzi! Va bene così! Dicevo che ai miei ragazzi dico sempre di ricordarsi che noi siamo in Messina, con tutto il rispetto della mia altra squadra. E siamo sopportati, come avete iniziato giustamente, con quelli più importanti. Partiamo da qui! Possiamo provare a guardare un po' avanti, diciamo, stamattina sono le altre notizie e andiamo a Barletta. Sì sì, ma ho sempre detto che per me tutte le partite sono qua, nel senso che la terza è forse quella più importante per la diffuseria. Allora, di questo è il santo. Vivo Santa, è legittimano! E vivo Santa, è legittimano! Vivo Santa, è legittimano! Se c'è qualche dubbio sulla considerazione che vuole fare il mister, mi pare che l'abbiamo fugato, definitivamente. Sì, poi riguarda il resto... È bravissimi! E quanto riguarda il resto, il partito va dall'altra. Mister, noi facciamo un grosso focacalupo a tutti voi per il lavoro che state facendo, è comunque eccezionale. Facciamo un altro grande applauso. Noi facciamo andare da soli, però adesso lasceremo spazio e speriamo gradualmente salire gli altri.